Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video, in questo video voglio farvi vedere gli acquisti dell'ultimo periodo acquisti fatti al Diem, dai Brochet, di Gotà e anche all'Esse Lunga allora parto dall'Esse Lunga che ha appunto aperto un punto vendita nella mia città non ce n'era neanche una di Esse Lunga, io vedevo i video delle altre ragazze dove facevano vedere gli acquisti beauty e quando ho saputo che l'Esse Lunga sarebbe arrivata anche qua ero molto contenta quindi sono andata e ho anche detto a mia mamma mi raccomando io vado a vedere il reparto beauty, torno tra un'oretta in realtà sono rimasta super delusa perché c'erano tanti marchi da profumeria ma per quanto riguarda il reparto naturale era veramente uno stand senza scherzare largo così e alto come me, quindi 1,70m con veramente tre oggetti e ci sono rimasta molto male, tra l'altro non ho neanche visto tutta la linea gabbiano dell'Esse Lunga quindi non lo so, sono rimasta un po' delusa ho acquistato solo due cose, una che avevo già provato perché me l'aveva regalato una mia amica tra l'altro Valentina, che saluto, ha aperto un canale YouTube è un canale piccolino perché è aperto adesso, ha pochissimi video per ora però vi lascio giù nell'info box il link del suo canale perché comunque è un canale interessante parla del beauty, fa vedere i prodotti finiti, insomma è un canale un po' simile al mio quindi vi lascio il link e appunto Valentina mi aveva regalato vari pezzi della linea gabbiano io mi ero trovata molto bene con il detergente intimo e ho voluto acquistarne uno e tra l'altro è già terminato, è cambiato il pack ma credo che l'inci sia lo stesso mi sono trovata bene al tempo, mi sono trovata bene anche adesso quindi ve lo consiglio, costa poco, questo qua è quello con camomilla, delicato, l'inci è buono è un buon prodotto e poi ho acquistato di Zao una maschera all'acido ialuronico una maschera nera all'acido ialuronico e carbone questa qua mi ispirava, mi piaceva il pack e ho voluto acquistare questa quindi questi sono stati i miei acquisti miseri da essere lunga passando poi al DM questo non so se ve l'avevo già fatto vedere comunque ve lo mostro ho preso il dedorante di Balea, questo qua in edizione limitata avevo preso anche il gel doccia che ho già terminato buonissimo e ho voluto prendere appunto anche il dedorante come sapete i dedoranti Balea a me piacciono un sacco poi ho preso anche questo qua che ha un doccia peeling all'anguria ne ho sentito parlare benissimo in tutti i canali nel mio DM non era ancora arrivato, è arrivato molto in ritardo ma appena l'ho visto l'ho preso e vi posso dire che la profumazione a me non piace molto perché è molto dolce molto chimica anche un po' stucchevole quindi però costa poco spero almeno che sia un buon peeling doccia poi ho voluto prendere queste striscette depilatorie per il viso di Balea mai provate io mi trovo molto bene con quelli della Sienne della Lidl ho voluto provare queste e vedremo poi come sono poi ho preso anche il detergente per le mani questo senza risciacquo di Baby Love buonissima profumazione non appiccica le mani carina anche la confezione poi altri due prodotti che cercavo da tantissimo non c'erano li vedevo su internet mi ispiravano tantissimo però appunto non riuscivo a trovarli quindi alcuni di voi mi hanno aiutato cercando nei loro punti vendita ma ancora niente insomma alla fine sono usciti e sto parlando del balsamo labbra tropical vibes questo qua di Balea ha un bel balsamo cicciottone questo tra l'altro ha anche un ottimo inci e poi sempre per le labbra lo scrub labbra alla banana tutte e due edizioni limitate uscite da pochissimo qua in Italia e vi farò sapere un po' come sono passando invece al Tigotà ho preso due prodotti ho acquistato questa mousse volumizzante testa fra le nuvole di Adorn perché mi sono tagliata capelli e la mia parrucchiera che è anche mia cugina me li aveva fatti un po' mossi erano molto carini appena fatti però poi a me non stanno in piega in nessun modo e mi ha detto quando li lavi metti la schiuma insomma mi ha spiegato come fare per averli un po' più mossi l'ho presa l'ho provata niente i miei capelli stanno così non c'è verso e pace me ne farò una ragione e poi ho preso questo siero per il viso della Essence della linea Hello Good Stuff questo qua è quello idratante con estratto di ananas c'era il tester allora l'avevo visto in tanti video non mi sono peritata a prenderlo perché credevo che fosse troppo unto per il mio viso perché io ho una pelle mista c'era però il tester da Tigotà ho provato è un siero che si assorbe alla velocità della luce e lascia la pelle ben asciutta quindi ho voluto prenderlo ed infine sono passata da Yves Rocher perché è arrivata una cartolina in realtà mia mamma ma poi l'ho utilizzata io dove c'erano appunto due omaggi e lo sconto del 40% su un prodotto e del 50% su un secondo prodotto quindi allora gli omaggi sono stati questi un gommage per la doccia della linea Monoi di Tahiti questo qua è Minitalia e poi un balsamo Livin che è questo mentre io approfittando degli sconti ho voluto acquistare due prodotti che sono la mousse per il viso detergente questa qua è quella ossigenante con microalga per pelli normali e miste questa è quella senza solfati con il 98% degli ingredienti di origine naturale mi piace il fatto che Yves Rocher stia in qualche modo cercando di migliorare l'inci mi piacciono anche i pack dei nuovi prodotti quindi ho voluto provare questo e sempre per il viso ho voluto provare questo qua della linea Pure Mante non so se si dice così è il tonico effetto cipriopacizzante con menta piperita bio per pelli da normali da miste a grasse anche qua il 98% di ingredienti di origine naturale proveremo questo qua va appunto shakerato un po' prima dell'utilizzo non l'ho ancora utilizzato per ora l'ho solamente presi e messi da parte per girare questo video comunque vi farò poi ovviamente come sempre sapere come mi trovo bene quindi questi sono stati gli acquisti che ho fatto nell'ultimo periodo fatemi sapere se avete provato questi prodotti o se avete qualcosa da consigliarmi se il video vi è piaciuto lasciate un like un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere io vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao